Ok ragazzi appena giunta la notte mi son fatto tutte le munizioni flaming arrow che potevo Magari me ne faccio un po' di altre però più o meno Non ne ho fatte il massimo No vabbè però le 27 torce me le tengo perché devo tenermi qualcosa Eh ecco qui c'è un mini cosino che visto che sono andato nella zona corrotta per aspettare la notte mi ha seguito Porca vacca non riesco mai a beccarti Stupido cosino Ti ho ucciso allora alla fine Allora illuminiamo qua tutto intorno perché poi c'è la gente che si offende perché non vede niente Ignoranti Cioè volevo dire molto simpatico E quindi vabbè Ok tipo riempio qua di torce Riempuscio Ok fin qui va benissimo Adesso da qui in avanti vi arrangiate Io non ho voglia Di riempire di torce tutto No non è vero che non ho voglia però non ho tempo In realtà non ho voglia Però vabbè ragazzi Cioè vorrei vedere voi ad aver voglia di fare queste cose Molto 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 storie E ok vanno benissimo 20 di vita per cominciare E sì comunque come avete notato ho 160 di vita ormai quindi sono pronto E un'armatura fighissima tutto d'argento tranne i pantaloni che sono di ferro Non ho capito come fa a muoversi con dei pantaloni di ferro ma non importa ragazzi Perché Sì però è una cosa spaventosa Cioè seriamente quando cerchi dei mostri non ne arriva nemmeno mezzo Cioè sono proprio bastarti Poi questi conigli che li uccido ogni 85 picconati sono proprio fastidiosi di bestia Quindi vabbè E adesso vabbè Cioè non è che posso riempire tutto di torce accidentaccio Saltate fuori stupidi mostri Oh ma manco a pagagli Cioè no tranquilli Non saltate fuori Sto solo registrando questa puntata Cercherò un numero totale di lenti In modo da riuscire a fare un occhio di Cthulhu Già ragazzi Un occhio di Cthulhu E' il mio obiettivo per oggi E ci riuscirò ragazzi E ci riuscirò Perché allora Allora Cioè se in questa notte non riesco a trovare tre Indicappatissime lenti Cioè seriamente non è che ci voglia troppo a trovare delle lenti Basta uccidere qualche mostro Qua e là E invece no Arrivano solo zombie qui Guardate Questa è l'invasione degli zombie 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 Oh yeah E anche questo muore Mori? Ok E quindi va buona Ok ragazzi Ok Ok No ma perché saltano questi tizi Cioè io mi sparo e loro saltano Sono fastidioso Dovrebbero farsi uccidere senza occorre resistenza C'era scritto così sul coupon Che mi hanno regalato Che c'è che mi hanno regalato No due Oh che figo Due occhi Ok ragazzi Uno non mi ha dato la lente Ma quest'altro Ne sono certo me la darà Perché è molto molto Ok è morto E non mi ha dato niente Grazie Diciamo a tutti ciao al nuovo arrivato Ciao Marco Allora Marco che cosa ci vuoi dire? Io sono Marco e non fumo da tre mesi Io sono Marco e non fumo da tre mesi Ok no no Scherzavo Però Cioè seriamente Au È Amoriez Au Eh vabbè ma non muoiono mai Stizi Cioè non mi danno mai lenti Cosa li uccido a fare Se non mi danno le lenti Mi danno solo delle inutili monetine Che servono a un sacco di cose però Vabbè No No maledizione No Oh Una lente Un medico Questa è la ricerca della lente scomparso Ok tu sei morto Guardate guardate che cecchinaggine Mamma mia Ma cosa assurda Oh No Porca Porca Ok Ok Ha 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 È morto per la bruciatura Tipo nei giochi dei Pokémon No È morto per la scottatura È vivo Già hai guadagnato 895 miliardi di punti di esperienza Yeah È morto per la scottatura Oh ma quando ci vuoi morire Ok No no Mori È morto È morto Ok Bravo che sei morto Bravo che sei morto Ok Allora Questa notte si prospetta lunga Sarà una nottata orchestrale Ha 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 Ho fatto la battuta No vabbè cioè Seriamente Sarà una nottata lunga e dolorosa Ci saranno molte perdite Ma alla fine vincere Wow No ok ragazzi sto scherzando Ok Allora 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 Ed è morto Ah 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 sei morto Ah sei morto Anche tu Lalalala Ora Bisogna uccidere questo occhio demoniaco Mi ha dato una lente Un uomitico Quante lenti ho Cinque Oh cavoli Beh pensavo di venne Ah no però Sono partito con tre Quindi Me ne servono sei in totale Oh del ferro lì sotto Ma il ferro ormai non mi serve più a niente Quindi evviva la sincerità Grazie di avermelo Fatto vedere Stupido bug del gioco Proprio quando Non serviva più Una mazza Grazie bug Devo ringraziare solo te Grazie bug Ok grazie bug Ehi aspetta hanno Quarantacinque di vita Wow Potenti sti E Ok Un attimo Visto che la cosa andrà per le lunghe Metterò un attimo in pausa Ok ragazzi Un attimo che uccido Quest'orda di zombie E poi Farò da solo Non mi serve il vostro aiuto Ragazzi Sì beh c'è Intendevo orda Nel senso quei tre Non tutti quanti Quelli che incontro Ma Evidentemente questi zombie Si sono montati la testa Quindi ok Arrivederci ragazzi Tra poco Ciao